Benvenuti su Meteo Giuliaci, il tempo previsto per martedì 16 gennaio. Ebbene, si guiderà ancora l'effetto della perturbazione giunta nella giornata di lunedì, la quale porterà ancora molti eventi meteo su molte regioni dell'Italia. In particolare, come potete vedere qui, ci saranno delle piogge su Levante Ligure, sulle regioni centrali, eccetto le Marche, sulla Campania, la Calabria e la Sartegna. E ci saranno le solite nevicate sulle Alpi di confine perché insisteranno ancora forti correnti atlantiche da nord-ovest. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno ancora al di sotto della media e quindi un po' freddo sulle regioni centro-settenzionali. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.